Ciao a tutti, ci siamo mancati? Inizia la prima puntata, intrighi e passioni 5! Non sono la signora poster. Perché? Perché? Ehi, me ne vado, adiós. Ma perché la vita è così complicata? Ma perché quando deve arrivare a queste cose? Perché? Sbagliato, sbagliato. E come ogni anno, mi ricordo sempre di portarti un pensierino per te. A dire il vero, dopo le mani che stai... Che buona costana la mia maca, mia maca! Prova buona, prova buona, prova buona! Lo immaginavo che non era una residenza. Ci sarà una bellissima sorpresa per te. Sì, amore. Ciao. Arrivederci. Dottore? Bye bye. Perché io cosa sono? Io sono Elisabeth Presto. Ho capito, ma tu non metti più i soldi. Io sono Elisabeth Presto.